Voglio proporvi un patto, un gioco, se preferito. In questo gioco dovrete combattere con degli avversari e con delle armi che io deciderò nel modo che mi aggrada. Rifiutate? Beh, morirete subito. Se sai veramente ciò che dici di essere o se non cadrai implorando come tutti gli altri quando la morte arriverà. Non rifiuterò ciò che fa di me un cavaliere. Si muore come si è vissuti. E voi non fate eccezione a questa legge a cui nessuno può sottrarsi. Grazie a tutti.